Altre 25 abitazioni e 26 aziende potranno allacciarsi alla rete idrica. Prosegue infatti l'impegno di ASA e TESPA anche nelle aree periferiche del comune di Fano. Dopo l'intervento concluso a Sant'Andrea in Villis, presto sarà la volta della zona industriale di Bellocchi, interessata da un primo stralcio dei lavori allo scopo di garantire il necessario approvvigionamento idrico a quest'area così strategica per l'economia cittadina. Questa era l'ultima zona nella quale c'è una concentrazione così, tra parentesi, alta di allacci perché parliamo di un circuito nel quale ci saranno una cinquantina di allacci. È un investimento di 500 mila euro ed è la naturale conclusione dell'attività di allaccio che abbiamo fatto nel comune. Ora le parti che rimangono ancora staccate sono delle case isolate per i quali a mano a mano provvederemo anche ad allacciare quelle, ma realmente si possono contare ormai sulle punte delle dita. Quando partiranno i lavori e come è possibile presentare la domanda, soprattutto entro quando deve essere presentata? Le domande possono già essere presentate perché c'è un modulo scaricabile dal sito dove c'è tutta la documentazione da legare per chiederle allacci. È molto importante che vengano fatte prima dei lavori perché altrimenti si dovrebbe successivamente riaprire di nuovo la condotta, creare ulteriori danni per chiaramente la strada, la viabilità e quant'altro. In progetto c'è l'inizio di questi cantieri nel giro di due o tre settimane. Abbiamo tutto il materiale che ci serve e dobbiamo solo iniziare. Quali saranno le vie interessate e come verranno suddivisi i lavori? I lavori che stanno per partire rappresentano il primo stralcio, praticamente un intervento complessivo che riguarda un po' le vie della zona industriale di Bellocchi che ancora non possono usufruire dell'acquedotto comunale. In questo primo stralcio praticamente le vie interessate sono via Meda, via Turati, poi via Papiria dal ponticello della Saipem fino al ponticello di via Ottava Strada e via De Nicola. Per complessivi 3.500-3.600 metri. Partiremo da via Meda, proprio perché secondiamo un po' poi anche quelle che sono le esigenze del Comune di Fano che intende poi rifare la pavimentazione stradale su tale via entro l'anno e quindi proseguiremo poi via Turati, via Punto Papiria e per ultimo via De Nicola. L'intervento nel suo complesso si concluderà presumibilmente il prossimo anno con le ulteriori vie che ancora non usufruiscono di tale servizio e che sono appunto via Tognolo, via Albertario e via Filippini. Diciamo che le utenze da servire con questo primo stralcio sono circa una cinquantina equamente suddivise fra utenze domestiche e utenze industriali. I lavori partiranno appunto quanto prima, il prossimo mese, insomma, il prossimo mese, entro aprile, dureranno circa sei mesi per un investimento complessivo di circa 500.000 euro.